Raffaella mi chiede, buongiorno dottore, vorrei fare una visita da lei per capire se nel mio caso si può procedere con lipofiller, penso che intenda lipofilling estetico, ho 42 anni soffro di lipedema, bisogna capire bene se è lipedema o qualcos'altro e nei ultimi anni ho subito variazioni di peso che hanno un po' svuotato e fatto scendere il seno, di dimensioni normali, ma lo girerei più tonico, spero che possa rispondermi indicandomi come prendere un appuntamento per una visita, grazie per l'attenzione e cordiale saluti, usi lo stesso sistema che ho usato adesso e le risponderò come poter prenotare una visita con me, ma queste mie risposte non vogliono assolutamente tendere a questo, ma è cercare di chiarire, educare, informare, condividere. Allora, è difficile darle una risposta certa, dipende cosa intende per seno più tonico. Diciamo che lipofilling è del tessuto adiposo che può dare una forma migliore, che può dare anche un aumento modico generalmente in relazione al grasso che si può prelevare, ma se vuole una tonicità e sentendo un po' più sodo, il grasso ha la stessa consistenza del grasso delle altre parti del corpo, per cui migliora magari la forma, migliora un pochettino il riempimento, ma la tonicità non la può cambiare. È un intervento che generalmente non richiede un trovero, l'ho detto credo più volte, poi per valutare se è possibile farlo, è chiaro che è la visita che permette quello, però se tendenzialmente c'è un po' di grasso, generalmente la zona più evidente nella donna è il trocantere, nelle parti laterali delle cosce o i fianchi, è possibile fare un lipofilmi. Per capire però se è possibile raggiungere quello che lei desidera, è chiaro che bisogna approfondire un po' di più quello che sono i suoi desideri. A presto!